Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Un gravissimo lutto ha colpito la giornalista e opinionista Cesara Buonamici. La notizia, riportata da fanpage.it e confermata da fonti vicine a Mediaset, ha suscitato una grande ondata di vicinanza da parte di colleghi e collaboratori della rete. Il direttore del TG5, Clemente Mimun, è stato il primo a esprimere il suo cordoglio, pubblicando su Twitter un messaggio rivolto a Cesara, un abbraccio forte a Cesara, accompagnato da una foto della giornalista, simbolo del TG5. La madre di Cesara, mamma Rosa, è venuta a mancare all'età di 94 anni, lasciando un profondo dolore nella giornalista. Cesara e Rosa erano molto legate, come raccontato dalla giornalista in un'intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. In quell'occasione, Cesara aveva descritto il loro rapporto di stima e affetto, evidenziando come Rosa fosse stata una guida per lei sia nella vita personale che nella carriera lavorativa. Questa vicinanza ha reso ancora più devastante l'addio di Cesara alla madre. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Grazie. Grazie.